Ciao a tutti, Leonardo the Space Pianist. Oggi voglio darvi un breve video, un piccolo insight, dentro di una jewel che Mozart crea. La fantasy in D minor K397. È una piaccia abbastanza famosa, anche perché, tecnicamente, non è necessario. Ma ha qualche mistero in it e ha una composizione particolare. Come do I mean? First of all, it is in a minor key, which for Mozart was not so common in his compositions, and is in D minor, a key that for him represented the utmost drama, like in Verrequiem. Another interesting thing is that this fantasy was unfinished and at a later stage was discovered that another person wrote the last ten bars. This can be due to many reasons. One is that maybe Mozart was planning to put something else after it. and also the structure. The structure is puzzling because it has a use of a material that was not common above all for that time. and it was created by the late Mozart. So a Mozart already super experienced, super deep in his evolution with his music. and it has a lyricism, a poetry inside, which is super deep. So technically it can appear an easy piece to play, but there is a lot and there are tons and tons of interpretations, of analysis. It is stunning also because there are three unburied cadenzas that probably are due to the influence of Carl Philipp Emanuel Bach. In that period Mozart was composing, having in mind a lot of the influence of baroque music. So it's really a stunning piece. Now, my aim in this video is to give you some curiosity and to explore more. So if you already play it, to go a little bit more in depth. And if you don't know it, to discover this beautiful music. The fantasy starts with an intro, which is pretty mysterious. And it's this one. I don't see you in the Alec tonight. I'm not familiar with you tonight. I'm not sure if you have any questions, but I don't want to know it. I'm not sure if you have any questions, I don't know why you want this person. I don't see you in the entire life as well. So how do you do it? All the people maybe read something. I don't know why you have a lot of the audio support, but you are definitely a lot of the audio support. I don't know why you have any questions Dopo questo intro, dopo entrare in questa atmosfera con l'andante, apprezzo il team. Può essere considerato il primo team, team A, o il primo parte del team che ha il secondo comparto, team B. Team A è un'issuale. E qui inizia una parte che ci sta a chiamare team B. A è un'issuale. E' un'issuale. E' un'issuale. E' un'issuale. E' un'issuale. E' un'issuale. E' un'issuale. a questo. After this first adagio, there is the first cadenza which can have, let's say, a free flow according to the syllabus, to the way in which at that time they were performing. And honestly, we don't have the recordings, but we can get an idea. Studying what was left as in letters, books and so on. And here again it appears theme B. . 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 Quindi avevamo team A, team B, team A in A minor, cadenza, e ora ascoltiamo solo team B, e ora andiamo alla seconda cadenza, portando ancora a team A, e questo è il primo blocco principale di questa fantastica composizione. Seconda cadenza. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS E con questo A major, che è il dominante, qualcosa che è in esperienza. Siamo in D, major, e troviamo ancora un Mozart che più volte è usato per ascoltare, quindi un Mozart con una nuanza leggera e un'atmosfera più divertente. Lo interessante è che, sì, è in un major key, ma è come un diamante dentro di un diamante, che è molto più profondo e scuro, quindi l'effetto è davvero impressionante. dopo questo, andiamo a una seconda parte dove la mano lefta sta con più movimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E qui abbiamo la terza e ultima cadenza. Grazie a tutti. E qui è l'altro. E qui è l'altro. E qui è l'altro. Mozart ha iniziato a scrivere questa fantasia. Quindi arriviamo a una quattro gradi, una dominante. è vero. Non è vero. È vero che fosse finito così. Probabilmente pensava di introdurare qualcosa di altro. non è vero. È vero. È vero. È vero. È vero. un po' di tempo. Un po' di tempo. Un po' di tempo. Un po' di tempo. È abbastanza rinforzante. un po' di tempo. È vero. un po' di tempo. Un po' di tempo. Un po' di tempo. Un po' di tempo. Avcco rischi è come un rombo slottero delle osi. E l'aspirante davvero piacciono. E sull'alto di Mozart, che non si è ancora così presente nella sua composizione. e mostrare quanto profondamente in questo caso è stato un composer e quanto è stato un god di composizioni che ci ha lasciato un'incredibile quantità di super high-level musica. Quindi, spero che avete piaciuto questo overview, questo breve risultato e che avete fatto in love with this amazing fantasy in D-minor by Mozart. If you liked this video, please hit the like button and consider to subscribe to my YouTube channel. And also, if you like, give a check to my Instagram profile. Follow me on Twitch, where I regularly stream live performances of classical music and of my music with piano and synth. Thank you for watching and see you to the next episode!